Ciao, sono Giovanni, mi presento. Mi occupo di selezione nell'area milanese. Sono in Betagon da 2008, ne ho viste di persone e ho visto soprattutto la nostra realtà crescere. Proprio adesso che divento padre mi rendo conto che vivere in una società che ti dà solidità è proprio importante. Quando penso a Betagon penso a casa, fiducia e movimento. Casa indubbiamente perché quasi dieci anni, trovare persone per le stesse facce, accoglienti, che ti mettono di buon umore al mattino, non può essere che casa. Fiducia perché anche negli anni dove l'IT e più in generale il mercato del lavoro rallentava o stava fermo, c'è sempre stata positività e ripresa. Movimento perché siamo giovani, dinamici e non siamo mai fermi.